Amiche ed amici di Ero Musica, è veramente un piacere per me oggi incontrare Sveglia Ginevra. Grazie di concederci questa intervista. Come stai innanzitutto? Che periodo è? È un bel periodo, è un bel periodo. Sono molto stimolata in generale, quindi... Sei nel pieno della promozione del nuovo singolo La tua ragazza, immagino. Sì, sì, ma in generale proprio del nuovo disco sono immessa nella scrittura, ho quasi chiuso quello che sarà il nuovo album, quindi sono veramente contenta. Cioè, sono successe così tante cose che in realtà realizzarle tutte, metabolizzarle, ho bisogno di un po' più di tempo, però il mood è assolutamente... Il mood è estivo, quindi super positivo. E allora ci arriviamo subito parlando della canzone, appunto, La tua ragazza, poi cercheremo magari di raccontare anche altre cose della tua carriera che magari i nostri lettori non conoscono, però vorrei partire appunto dalla tua ragazza. Come è nata? Da dove hai trovato l'ispirazione per questa canzone? Ma allora, in realtà poi non l'ho neanche mai detta questa cosa, quindi esclusiva. Perché mi è capitato diverse volte che mi scrivessero dei messaggi su Instagram ragazze che magari grazie alle mie canzoni siano innamorate, ma poi siano anche lasciate a volte. È successo, ma non è colpa mia, mi è stato anche detto più e più volte. No, però a parte gli scherzi, io sono dell'idea... O comunque per me la musica è sempre stata un motivo di... Cioè non motivo, è stato proprio fonte di gioia e soprattutto di comprensione di sentimenti. Quindi parto dal presupposto che secondo me la musica deve avere un messaggio e deve servire sia per momenti tristi, ma anche per momenti allegri. E quindi ci tengo sempre che dietro ogni mia canzone poi ci sia una morale o comunque che una mia canzone magari possa lasciarti qualcosa. E credo che secondo me in generale in quest'era ci sia un po' bisogno di normalizzare soprattutto le minoranze e di dar forza a una generazione che purtroppo non sempre ha il supporto emotivo su dinamiche soprattutto sentimentali. Perché siamo in un paese un po' medievale, per quanto poi abbiamo fatto tanti passi, purtroppo si fa fatica ad accettare la diversità e la minoranza. Quindi si tende sempre a parlare in maniera normale di convenzioni più vecchie, no? E quindi lo scopo della tua ragazza è proprio parlarne come se lo fosse, perché lo è. È questo che bisogna fare. Si parla tanto di esagerazione, di parlarne troppo, ma in realtà secondo me bisognerebbe semplicemente integrare questi argomenti. E l'arte secondo me è un ottimo strumento per quanto mi riguarda. Questa tra l'altro è una cosa che tu ho visto in alcune interviste e dici spesso, no? Che la musica è una terapia e in una canzone, nello specifico del tuo album, Pensieri di Spassi e Tura Tangenziale, dicevi che a volte funziona, a volte no. C'è un, appunto, c'è una strofa di questa la tua ragazza che secondo te dovrebbe essere, non so, tipo dipinta sui muri. Il messaggio chiave da, come dicevi, da trasmettere, da passare. Eh, ma credo sia nel ritornello, perché io avevo intenzione di esprimere questo concetto che è non lasciamoci influenzare negativamente da quello che dovremmo, dall'ideale, no? Da quello che dovremmo essere. Perché poi ci sono persone che hanno la presunzione, che si prendono il diritto di giudicare cose che non spettano loro. Che non spettano loro. E nel ritornello avevo bisogno di dire che bisogna semplicemente tuffarsi nelle cose e viverle semplicemente nella maniera più naturale possibile. Al di là di quello che la gente parla, di quello che la gente dice e di quello che la gente dirà per sempre, perché è così, è così. Non puoi, non si può avere il controllo su questa cosa. Però si può sicuramente fare in modo che le persone che soffrono del giudizio si sentano meno sole. Tu personalmente c'è un po' di autobiografico da questo punto di vista? Hai vissuto delle... ti sei trovata confrontati con questa cosa? Assolutamente sì, vivo in un ambiente che purtroppo rimane uno dei pochi ambienti in cui il mondo LGBT è supportato e sono molto contenta che da Spotify, per esempio... Ma guarda, io più che spingerla verso il mondo LGBT, la spingerei proprio anche per dire sulle donne, no? Su questa fatica che dobbiamo fare a dimostrare sempre che nonostante siamo donne possiamo fare quello che gli uomini in un certo senso è scontato che facciano. Quindi è così. Comunque c'è sempre qualcosa di autobiografico, come c'è sempre qualcosa che riguarda magari i sentimenti che hanno vissuto le persone che amo, o anche per dire, come ti ho detto prima, un messaggio che posso ricevere da un fan o da una persona che ha ascoltato la canzone. Però credo che piuttosto che dire che sia una cosa personale è un messaggio così grande che va veramente molto oltre la mia persona. Cioè la musica è molto più grande. Certo. Tra l'altro mi dicevi che la tua ragazza è proprio un tuffarsi, un buttarsi nel sentimento che è un po' diverso magari da stare con te, no? Il singolo che è uscito invece è in primavera. Per te che cos'è l'amore? Come vivi questi sentimenti? Eh, mi faccio una domanda che richiede almeno un paio d'ore. Non lo so, nel senso, io credo di averlo idealizzato tanto, l'amore, come tutti noi, no? Però principalmente sono... Mi voglio convincere che non è una cosa complessa. probabilmente è la cosa più semplice del mondo e tutto quello che ne consegue è sicuramente... Succedono cose perché noi abbiamo un passato, abbiamo dei traumi, strascichiamo cose per anni e poi a volte succedono cose così semplici come è quello o anche il messaggio della tua ragazza in generale o anche stare con te ha un bel messaggio che è quello di amarsi, amare se stessi prima di tutto. Sì, tra l'altro ho fatto uscire queste due canzoni proprio con una power di forza e coraggio, restiamo uniti, che probabilmente è molto diverso dai primi due dischi che ho fatto dove un po' mi vittimizzavo me stessa probabilmente. Invece con questo terzo disco forse ho capito che quello che voglio dire lo voglio dire a molte più persone. Quindi piuttosto che prenderlo come terapia e basta per me stessa vorrei che si spargesse un po' anche oltre e forse anche perché i miei fan, anche se non sono tantissimi, comunque mi fanno sentire, mi danno la responsabilità di far capire loro delle cose, di semplicemente stare con loro, forse è per questo che il terzo disco è così, credo, non lo so, stavo pensando tra me e me, mi stavo parlando con te. Anche musicalmente si percepisce, avendo riascoltato anche i tuoi precedenti lavori, anche come dicevi in altre interviste, cercando informazioni un po', magari un primo lavoro più intimo, un secondo un po' più urlato, diciamo, in questo terzo già dei primi due singoli si percepiscono veramente due identità forti che però si capisce essere quelle di Ginevra. è un po' la ricerca che stai facendo, quindi di avere un album ancora più eterogeneo rispetto a quello che è stato l'ultimo. È vero, sì, sì. Sicuramente più compatto e più a fuoco, anche perché poi dal secondo disco al terzo, come anche dal primo al secondo, ho avuto la possibilità di confrontarmi con diversi artisti, diversi produttori, ho vissuto un anno in più. Poi comunque considera che il Covid per il mondo dell'arte non è stato per niente facile, come penso per tutti, però quando non vivi è un po' difficile scrivere, anche se poi l'immaginazione ti aiuta tanto. È stato un periodo un po' complesso, però questo disco qui credo che anche tu lo percepirai in maniera diversa perché probabilmente ho anche imparato ad avere una scrittura più diretta. Mi spoglio molto più facilmente dei sentimenti o delle cose che vivo. Non so se questa cosa arriverà, però io ti dico che la vedo, la sento così. Ce l'auguriamo, insomma sono anche abbastanza sicuro e ricollegandomi un po' a tutto questo che abbiamo detto, hai scritto anche che hai collaborato nella scrittura di una bellissima canzone anche per altri, sto parlando di Sardegna, degli Zero Assoluto, e per un artista come te, insomma, che appunto ha nella scrittura un atto veramente di grande fragilità, quindi di uno scopo terapeutico, vedere poi una tua creatura, chiamiamola così, interpretata da altri, che effetto ti fa? e come è stato lavorare anche con Thomas e Matteo? Ok, guarda, nello specifico con Thomas e Matteo è stato proprio un sogno che si realizzava, perché loro sono i miei idoli, cioè quando c'era il video di semplicemente su Antibio ogni giorno, io ero lì ad aspettare, quindi è stato tutto un po' un sogno gigante, in più avere la possibilità di scrivere con loro una canzone a cui io tengo particolarmente, perché, vabbè, alla fine io tengo particolarmente a tutte le mie canzoni e a tutte quelle che scriverò, è stato molto bello, perché poi la cosa che ho notato quando scrivo per altri, perché sto imparando anche a scrivere per altri, adesso è uscita questa qui, ma ne usciranno altre, è che ho scoperto di avere un'empatia nei confronti della... cioè riesco ad avere un'empatia nei confronti dell'artista per cui sto scrivendo o con il quale sto scrivendo e riesco anche a comunque rispettare il mio mondo e magari riesco ad unirlo a quello dell'artista che ho di fronte e Sardegna è stato un po' come io volevo omaggiare quello che gli zero assoluto per anni sono stati per me e loro hanno avuto l'umiltà e la curiosità di vedere che cosa poteva succedere mischiando i nostri mondi, quindi è stato veramente bellissimo e il risultato è una canzone proprio fatta, scritta con il cuore, veramente con il cuore. E poi profuma di estate come la tua ragazza, c'è molto hit-pop che ritorna in questo periodo probabilmente della tua musica, ci sono immagino che siano tantissimi mondi musicali ai quali fa riferimento, però in questo momento specifico è questo forse la... Sì, allora hit-pop in generale beh, io avevo tutti i cd del festival bar per farti capire, quindi sono proprio di quella scuola lì della musica anni 90, sia italiana che estera. Ascolto tantissime cose diverse, passo dall'R&B al punk, al pop anni 80 e diciamo che questo disco ha una direzione molto pop ma comunque cantautorale, cioè che è una cosa che io non abbandonerò mai perché mi piace tantissimo scrivere e andare a fondo alle cose, ai sentimenti, però essendo una musicista che scrivo, produco, sono veramente affamata in generale di musica e in generale quindi ci tengo a far sì che il significato della canzone poi matchi perfettamente con la musica e quindi l'idea è quella di mischiare cantautorato per rispondere alla tua domanda a quello che è il pop che però può essere pop magari pop un po' soul, pop un po' funk pop tipo hyperpop che come reference magari posso avere Taylor Swift Dua Lipa oddio ne posso dire mille ma in realtà non me ne sta avvenendo in mente neanche una più tutta la mia passione per la musica quindi possiamo anche andare a Ryan Adams o i Clash oppure che ne so tutta la roba che ha fatto Quincy Jones la musica mi piace non so che altro è un mondo è veramente sì sì mi piace proprio tanto tutta è proprio mi piacciono le canzoni belle ecco non ho un genere preferito ma mi piacciono le canzoni belle in generale guarda come ultima curiosità visto che il tempo sta scadendo volevo chiedere questa cosa qui che non conoscevo onestamente il fatto che quello che tu aspetta quello che volevi scusami era stata eletta dalla radio spagnola Cadena Ser la migliore canzone internazionale del 2000 ti sei messa dietro dei nomi tipo Maneskin Harry Styles sì vorrei chiedermi considerando anche che ho letto che tu hai vissuto in Australia per un po' di tempo hai iniziato in una band cantando in inglese questo questo riconoscimento magari ti ha fatto accendere una lampadina un desiderio di fare magari qualche pezzo in inglese ma io già l'ho detto perché ho sempre scritto in inglese questo è il mio primo progetto in italiano sì a parte devo imparare lo spagnolo perché un paio di canzoni mie le voglio tradurre perché poi ho un sacco di persone che mi seguono dalla Spagna capito cioè proprio è surreale questa cosa che non so se in realtà poi la Spagna ha una particolare tendenza ad ascoltare musica italiana credo di sì perché tante volte è capitato che gli artisti italiani poi traducessero in spagnolo però per rispondere alla tua domanda ti dico sì 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 dammi tempo che lo faccio da madrelingua spagnolo mi offro per eventuali traduzioni o se succede sarà guarda me l'hai detto adesso ti scriverò e tradurremo insieme no no però assolutamente sì sempre per il discorso di il messaggio deve arrivare a più persone possibili se ho la possibilità di tradurre di farlo arrivare anche al di fuori dell'Italia ma perché no perché no non lo vedo assolutamente un limite ultima ultima domanda proprio mi hai anticipato già che il disco praticamente è già quasi pronto che estate sarà la tua allora un po' triste perché per la prima volta non sono in tour e da una parte che però tristezza che va via praticamente tra un paio di mesi perché poi toccherà preparare il tour quello che uscirà subito che annunceremo dopo il disco e quindi praticamente la mia estate sarà capire come chiudere il disco e godermi un po' la vita che non avrò quando uscirà il disco quindi un po' di vacanze meritate intanto noi ci godiamo la tua ragazza aspettando il disco e quindi aspettando anche poi il tour inverno invernale vi ringrazio tanto abbiate fede abbiate fede questo è un messaggio per tutti abbiate fede assolutamente in qualsiasi cosa in generale sempre ti ringrazio tantissimo Ginevra come dicevo prima correte ad ascoltare la tua ragazza e non solo tutte le canzoni di Sveglia Ginevra e a presto grazie ancora ciao